Il Covid impicchiata nel Salento. Attualmente sono 534 i positivi in provincia di Lecce, una cifra che torna a scendere. Una settimana fa erano 180 in più e scende quasi a cifre da record il numero percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati. Sono risultati contagiati il 3% del totale nell'ultima settimana. Nel capoluogo sono 68 i positivi al momento, ma i numeri lasciano ben sperare un po' ovunque. Chi si aspettava un'ondata autunnale come quella del 2020 per ora ha probabilmente sbagliato le proprie valutazioni e se dalle istituzioni si continua a ricordare il rispetto delle norme di distanziamento, il Salento torna a respirare. L'ultimo report redato dall'AS di Lecce riporta 47 persone ricoverate in ospedale, di cui 5 nel reparto di terapia intensiva, 28 al Dea di Lecce, 9 in malattie infettive e 5 nel nosocomio di Galatina. Nel Salento, che piano piano vede la luce in fondo al tunnel della pandemia, importante il numero di vaccinati. In tutto sono 1.130.000. Al via anche le terze dosi. Fin qui ne sono state somministrate 1.866.000. Grazie.